Ciao! Oggi pittureremo con la tecnica del filo! Divertiamoci con la Fluid Art! Ci serviranno delle tempere, cartone, nastri di raso, un pennello. Prepariamo lo sfondo per il nostro quadro. Immergiamo il nastro direttamente dentro la tempera. Disponiamolo sul cartone facendo dei piccoli ghirigori. E tiriamo! Si possono usare varie tecniche, non solo il filo di raso, ma ad esempio di lana, un filo di perle, dello spago. Proviamo con un filo di cotone. Appoggiamo un cartone e tiriamo il filo. Vi è piaciuto? Lasciate un commento, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao! Ciao!